FACE Vedrete quanto faccio schifo Se non lo sapete praticamente L'obiettivo di lol è distruggere il nexus Cioè il cuore avversario Il cuore dei Ora vi faccio vedere come comincio la partita Quindi saltiamo direttamente Aspetto prima vi devo dire che io sono Fiora con la skin Sono i gold gunner Quello la Ok basta Adesso salto direttamente all'inizio della partita Non lo so Ok ragazzi siamo qui Siamo arrivati Siamo entrati Basta non dico più parole con la T final Ok Allora io devo andare top Sono solo top Sono solo Naturalmente non metterò il video per intero Metterò solo i momenti Diciamo saliente Preso da fifa 14 E perché durerebbe Sui 50 60 Minuti Quindi Potrebbe dare un po' Potrebbe essere un po' lungo Anche per caricare Già un video di Come quello di trade out Cioè Ci ho messo 6 ore a caricare Tipo Circa Quindi Cioè sarebbe impossibile caricare un video di Ci vorrebbe un giorno intero Ok I primi 5 minuti Non Non taglio niente E poi comincio a togliare Vediamo un po' Allora Agari c'è la skin Diana non c'è un cazzo Rengar ADC No Che cosa Scusami Ma cosa Maseri stiamo dicendo Io spero di no Va bene Rengar support Ok intanto ho sbagliato Ragazzi perché in teoria Io all'inizio dovrei andare qui Qui Spera vedere se invado Ah ok Non posso invadere Stando qua Sono pazzo Lasciate stare Ah ecco C'è chi è che è Irelia Giustamente Irelia Aiuto Ok Irelia mi shotta eh Quindi stiamo attenti Guarda ho già la pozione Ho usato Ah toh 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 Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Dai dai che ce la posso fare Mi sta facendo male il stomaco Ok bye Oh mio dio Oh mio dio mi shotta Oh mio dio mi shotta Eh Eh No Ho fatto la seconda blood Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio That damage Ok basta Eh 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 Ho fatto la kill Tuturuturuturutu Percolando che Fiora è l'unico personaggio Che so usare Non è che L'unico eh L'unico C'è perché è l'unico L'unico Che so usare bene Quindi Ah i reli aiuto Porca troia Oh cazzo Che ha fatto Mi ha fatto cacare addosso Non ho mai usato i reli Quindi non lo so Usiamo la pozione Facciamo avanzare un po' Se ci riesce E' un po' stupido Ok Oh mio dio No Eh via No Jax mi shotta Jax è counter di Fioro Ma sei pazzo Io vado a guardare Non c'è più No Mi sto facendo shotare Come un pazzo Fanculo Dai dai che ci siamo fatti La torre Dai 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 Mi sono fatto la torre Dai mi sono fatto la torre Ok mi sono fatto la torre Quasi Ma diciamo Dai 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 Perché l'avevo fatto Oh mio dio Oh mio dio Damage Ah Mi sono fatti Oh wow Wow Se 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 Puttana No Eh Sto cacchio Un culo Non c'è questo Poi faccio Walk walk Poi faccio Walk walk Se La 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 Staccami Attaccami Eeeh Uno Due Tre No 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 Puttana 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 Ah era già Quindi non è coppa di Jax Puttana comunque E via Shottiamolo Eeeh Ho paura Via Via Perché Perché Ho Flasciato Oh mio dio Ho stato il flash random Proprio Ah che non lo so che stai là dentro Ah devo anche Wardar Questi sono molti Tuk 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 Ci deve morire Ci deve morire Ci deve morire A 50 Vabbè Ce la posso fare Ce la posso fare benissimo Eh Sei tu tanto stupida Che mi No No Scusa Non sei stupido Non volevo insultare Oh mio dio Via 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 di qua Ulti Hydra Tutto Tutto Usa tutto Eeeh Mi dispiace Mi aveva visto Secondo me Mi aveva visto Vediamo Faccio un po' Se non gli faccio danno Uso il flash e scappo Tanto non ci riuscirò mai A usare il flash Ah Giuas Ah Glielo faccio il danno Perché è livello 10 Ecco Vale Non dovevo parlare Dai No No Eeeh Ah Ucciso Jax Ok Pazza I vedi No vado via Guarda Irelia Vuoi vedere 18 18 18 18 18 20 Kimi shot No Ok via Cazzo Perché c'ho ancora una pozione io C'ho ancora una pozione Via Oddio Via Oh Buttiamoci su Velcro Sbuttiamoci Buttiamoci Buttiamoci Buttiamo Esatto 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 Ulti 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 Double Double kill Double kill Ach 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 Vuole proprio morire quello Ma che cosa vuoi Che cosa vuoi Che cosa vuoi Ach 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 Ok Andiamo a farci Ma se stai parlando Serio 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 Ulti Ulti Tutti quanti Shot 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 Via Ma Chi è quel pazzo che si è buttato chi è? cosa vuoi? ti shotano bugie scommettiamo che lo faccio lo sapevo oh mio dio l'ho quasi fatta madò no no shoto twitch addio twitch oddio double kill triple kill e dove devo andare botto di vita c'ha oh mio dio sono morto no sono morto via ok cosa vuoi? no perché l'ho fatto? lux vieni di qua vieni di qua vieni di qua bravo ciao bella ciao bella ehi bella guarda come mi diverto eeeh ciao bello doppia kill no perché doppia kill no lux me l'ha trollata quella di prima vaffanculo lux mi pizzica il nado vai vai via vieni di qua vieni di qua oh mio dio kill kill double double kill double kill double kill ah la 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 guardate guardate e uno due tre quattro madonna mia quanto sanno che faccio a velco cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi no 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 io cosa voglio fammi andare via di qua oh mio dio se sopravvivo sono un culo sono un culo mazzo si se morirò si tre due uno andiamo attenzione shotto anche da ho fatto double oh mio dio ho fatto double pensavo che mi aveva solo ucciso ce la farò vabbè quella è morta cosa vuoi double double arriva triple arriva triple non ci arriverà guarda davanti è pazza lux si può prendere danno anche se non ne prende ovviamente oh mio dio non ci muoio lo stavo morendo cioè ero diventato immortale peccato che poi gli sono arrivati 82 veicots spiace spiace oh mio dio oh mio dio death damage death damage impressionante quanto danno faccio al velcro impressionante impressionante dai ho bisogno di qualche minion così recupero tutta la vita guardate ho già recuperato tutta la vita guardate impressionante che life steal death life steal oh e qua sta abbiamo vinto abbiamo vinto ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto ok ragazzi finisce qui il mio primo video di lol non sono andato male sinceramente potevo fare una figura ben più di merda il mio punteggio è questo qui ci vediamo nella seconda parte ci vediamo al prossimo video ciao